Nel 2024 Anci e Abruzzo compie 30 anni che saranno celebrati in un aggiornato evento al Teatro Marruccino di Chieti il 1 ottobre domani sera. Una celebrazione che avrà un significato di riconoscenza del percorso che ha portato l'Anci ad essere l'Associazione di Riferimento dei Comuni Abruzzesi, una comunità di sindaci, amministratori e funzionari che ha cementato uno spirito di collaborazione e appartenenza al fine di produrre migliori risultati per cittadini e territori. Alla conferenza stampa di presentazione in regione il presidente Gian Guido D'Alberto, il vicepresidente e il direttore essenziali per il percorso dell'Anci. Una celebrazione importante, quella dei 30 anni di Anci Abruzzo che di fatto è una certificazione del lavoro che è stato svolto appunto in questo periodo così importante anche di trasformazione del nostro sistema delle autonomie locali dove Anci ha svolto un ruolo di riferimento istituzionale nel rapporto con tutti gli altri livelli e ha dato forza ai comuni, non dimentichiamo che la nostra regione è composta per l'85% da piccoli comuni quindi si è svolto anche un lavoro di sostegno, di supporto rafforzando e valorizzando quel ruolo istituzionale che i comuni portano con loro, cioè come detto dal presidente Mattarella, le sentinelle della coesione del nostro paese. Anche e soprattutto nei momenti in cui con lo smantellamento del sistema delle province i comuni sono diventati sempre più il riferimento di prossimità e si sono caricati di responsabilità ovviamente molto importanti e molto significative. Anci Abruzzo continua a svolgere questo ruolo, lo ha svolto nel corso degli anni anche ovviamente in prospettiva futura, pensiamo in particolare alla chiusura della partita del PNRR, abbiamo fatto battaglie per salvare le risorse dei comuni e oggi dobbiamo completare questo percorso fino alla rendicontazione delle opere, pensiamo ai due crateri sismici 2009 e 2016 che riguardano gran parte del territorio abruzzese con tante risorse che sono state intercettate nel corso di questi anni e che devono portare alla rinascita dei nostri territori e poi all'altra questione di strettissima attualità, la collaborazione con la regione Abruzzo per quanto riguarda la installazione e collocazione sui territori degli impianti di energia rinnovabile. Una storia iniziata nel 1994, al teatro Marruccino si comincerà alle 16 con il saluto del sindaco Ferrara per proseguire poi con le celebrazioni alle quali parteciperanno anche esponenti della regione Abruzzo, il presidente dell'Unione delle Provincie Caruso, il sindaco dell'Aquila Biondi, presidente Unciam Berardinetti, alle 17.45 lo spettacolo il sindaco pescatore con Ettore Bassi, la storia di un era normale, Angelo Vassallo che ha sacrificato con la sua vita l'impegno di difendere e migliorare il suo territorio e le sue persone per l'occasione ci sarà anche un annullo filatelico che ricorda Giorgio Lapiera, fondatore di Anci.